Ci troviamo presso il piano di zona Salerno 8 a Vallo della Lucania insieme al coordinatore del piano Mario Ogliaruso. Con lui un aggiornamento sui prossimi servizi che saranno attivati dall'ufficio. Abbiamo da poco attivato numero 5 ludoteche che fanno parte dei PAC dell'infanzia. Interesseranno 5 comuni dell'ambito, precisamente Montecorice, Castelnuovo Cilento, Agropoli, Vallo e Montanantiglia. Il servizio è rivolto a bambini da 0,36 mesi. È un servizio interessante, fa parte dei PAC di infanzia. Speriamo che vada bene anche perché siamo convinti che è un servizio che ce l'hanno richiesto in tanti. Servirà bene o male un centinaio di utenti con una ricaduta occupazionale di una trentina di unità. Abbiamo anche questo che non è poi un aspetto secondario. Oltre a questo stiamo per partire con i PAC anziani che interesseranno anche i servizi di ADI e ADA. In più abbiamo concluso, finalmente, dopo un po' di tempo, non dovuto a noi, non per nostre responsabilità, ma non voglio addebitare responsabilità ad altri. Voglio solo dire che il piano di zona su questo è stato celere. Ha chiesto anche collaborazione alle varie enti, compreso l'ASSO. Abbiamo concluso l'ITER degli famosi assegni di cura, rivolti soprattutto ai malattie da motoneurone. Crediamo di aver lavorato fino ad oggi bene con le esigue risorse che sempre ci diciamo, le esigue risorse economiche, che saranno sicuramente nei prossimi anni spero incrementate.